Allora, chi mi ha aiuto l'arroba? Io! Eh, Augusto! E' una panza con questo mannuale! E' chiaro! Arroba! Allora! Guarda, non fa bene! Guarda, non fa bene! Guarda! 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 o per lo street io porto solo la cascia ma io quello non va mai in crisi questo è l'arte ma tu le tue postine non è al contrario poi non raccoglie la stizia la stizia